Per i giudici della Corte di Cassazione non ci sono i presupposti per contestargli l'aggravante mafiosa, così è stato disposto l'annullamento senza rinvio per le posizioni di Davide Orazio Faraci, difeso dall'Avvocato Flavio Sinatra e Salvatore Biondo, rappresentato al legale Salvo Macri. Nei loro confronti viene meno la pesante contestazione, mossagli negli inchiesta mutata arma. La stessa decisione è stata adottata anche per un altro imputato, Mike Vella, difeso dall'Avvocato Giuseppe Fiorenza, anche se in questo caso i giudici romani hanno disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Caltanissetta, proprio per valutare ulteriormente questo aspetto. Sono stati accolti rispetto a questo punto i ricorsi avanzati dalle difese che hanno impugnato le decisioni emesse dalla Corte d'Appello Nissena. Gli imputati sono accusati di aver avuto un filo diretto con il gruppo di mafia del Rinzivillo sia per le armi che per il traffico di droga. Ricostruzioni che i legali hanno sempre contestato anche nei precedenti gradi di giudizio, tutti elementi che hanno portato in Cassazione nonostante la Procura Generale abbia chiesto di respingere i loro ricorsi. L'annullamento con rinvio è stato deciso per Biundo anche su un altro dei capi di imputazione che gli venivano contestati. Per Faraci invece rispetto al riconoscimento della continuazione, le loro confronti erano state pronunciate le sentenze più pesanti come pena imposta in Appello, anche se fu deciso una riduzione rispetto al primo grado. Dieci anni e quattro mesi erano stati imposti a Mike Vella. Il gruppo in primo grado aveva indicato undici anni e quattro mesi, nove anni e due mesi di detenzione per Salvatore Graziano Biundo e Davide Faraci. In primo grado la condanna era stata per entrambi di dieci anni. Con l'annullamento per l'aggravante mafiosa l'entità delle condanne si riduce, i giudici romani invece non hanno accolto i ricorsi avanzati nell'interesse di altri due imputati. Si tratta di Davide Pardo e Andrea Tomaselli. Nei loro confronti si concentravano contestazioni meno gravi. In Appello era arrivata la condanna ad un anno e sei mesi per Davide Pardo difeso dall'avvocato Cristina Alfieri. In continuazione con una precedente sentenza la condanna del gruppo invece era di due anni di detenzione. Un anno e tre mesi invece per Tomaselli rappresentato dall'avvocato Ignazio Ragnolo. Altri imputati sempre coinvolti nell'inchiesta nel rispondono davanti al collegio penale del tribunale di Gela.